C'era una volta un ragazzo che amava una ragazza. Le promise che per il resto dei suoi giorni non avrebbe mai amato nessun'altra. Diventerò uno scrittore. Scrivi di quello che conosci. Quello che conosco meglio sei tu. I tedeschi sono a meno di 300 chilometri. Se tu l'ami, Leo, devi lasciarla andare. Leo, noi due ci sposeremo. A New York. Qual è il più importante libro del mondo? Facebook. La Bibbia. Mio caro figlio, avevo scritto un libro per tua madre. Il manoscritto originale della storia dell'amore è stato distrutto da un'alluvione. Tuo figlio ti ha rubato il libro e il libro sarà pubblicato a suo nome. Assurdo! Tutto quello che hai scritto nel libro è vero. Sono sopravvissuto grazie a te. Vieni con me. Non posso. Non voglio essere amata. L'amore esiste soltanto nei libri. Devi vivere la vita, non sopravvivere. Rubato. Ti hanno rubato tutto. Tua moglie, tuo figlio, i tuoi libri, le tue possibili vite future. È sopravvissuto alla guerra? È sopravvissuto a tutto. Il libro non c'è più. È morto. Chissà se forse un giorno un miracolo potrà riportarlo indietro dal passato. Volevo tanto sapere come andava a finire. Domani te lo racconto. Lo Leggo. schön.